Quando la tua ragazza è una spia, sembra piuttosto figo o piuttosto imbarazzante. Con chi sta messaggiando il mio ragazzo? Vediamo. Meno male che abbiamo un tavolo di vetro, non riuscirà a nascondere una sola parola. Ups! Gli metto una cimice sulla pizza e ascolto tutto ciò che dicono nella loro serata tra ragazzi. Consegna pizza! Buon appetito! Ragazzi, la pizza è arrivata! Ok, è fatta! Cos'è questo rumore? È strano, sento gli acidi dello stomaco. Oh, ragazzi, non mi sento molto bene. Torno subito. Wow, questo proprio non volevo sentirlo! Fammi controllare il telefono di Nick. Ha un codice d'accesso. Proviamo a indovinare. Il suo compleanno? No! Il giorno in cui ci siamo conosciuti? Ma no! Aspetta, classico Nick. La password sono 4-1. Fatto! Chi è questa ragazza? Nick! Uh, previsioni del tempo. Non ci credo. Questa ragazza è troppo sexy. Non hai freddo? Cosa? Alice? Lo sai che sei sulla televisione pubblica? Oh, no! Mi stanno attaccando! Cos'era quello? Sedetevi, ragazzi! Immagino che abbia portato di nuovo i suoi amici. Vediamo. Chi sono? Ah, ciù! Salute, tesoro! Che sta facendo? Come osa! Ups! Credo di essermi confusa. Prendi un volantino. Alice ha tutto il suo equipaggiamento da spia. Nick non la riconoscerà con questo vestito. Ma si è dimenticata che è estate. Uh, fa così caldo. Mi sento svenire. Alice, svegliati. Stai bene? Lo sapevo. Mi tradisci con un'infermiera. Alice ha trovato un bel nascondiglio. Una grande federa. Che cuscino duro! Scoprirò a chi sta scrivendo. Sono un po' stanco. Penso farò un pisolino. Ah, tesoro! La tua testa è così pesante! Un messaggio. Da parte di chi? Non riesco a vedere. Facciamo alla vecchia maniera. Meno male che so leggere la scrittura allo specchio. Tesoro? Ancora? Cosa? Mi sto solo facendo le labbra. Sì, anche tu mi manchi. Sì, ti amo anch'io. Tornerò presto, te lo prometto. Bene, bene, bene. Con chi stai parlando? Una ragazza? Nick, chi era? Stai flirtando con lei? Ti ho beccato. Rilassati, Chia! È mia madre! Oh, salve! Che bello vederla! Cosa sono questi? Capelli lunghi? Non sono i miei! Chi è questa bionda sexy con cui sei uscito? Calmati! Non era una ragazza, era un ragazzo! Un bassista che mi suonava dritto nell'orecchio! Tesoro, sarò fuori città per due settimane. Fai il bravo! Finalmente libero! Oh, santo cielo! Alice, passa dietro! No, tesoro! Il mio clone starà seduto qui a guardare tutte le tue mosse. Capito? Vediamo dove va Nick. Userò solo un po' di vernice UV. Perfetto! Ora accendo una luce UV e seguo le impronte. Bene, bene, bene! Dove sta andando? Ecco! Nick, ti ho preso! Ups! Vediamo cosa sta facendo il mio ragazzo. Cosa? Non sono mie! Di chi sono Nick? E dove le hai prese? Non è come pensi! Lascia che te lo mostri! Prendi una ciliegia e la spari come una fionda. Non è divertente? Ecco il mio ragazzo! Con chi sta guardando il film? Lo scoprirò! Questo è un film davvero spaventoso! Ah, è Nick! Non avevo idea che ci fossi anche tu, Alice! Fermati lì! Hai il diritto di rimanere in silenzio. Scoprirò cosa stai nascondendo. Ahà, profumo! Lo sapevo! Di chi è! Non mentirmi, Nicholas! Doveva essere un regalo per te, tesoro! Per il nostro anniversario! Oh, che dolce, Nick! Oh, che dolce, Nick! Sei il migliore! Ah, il suo telefono! Diamo un'occhiata alle sue foto recenti! Chi è questo? Un amico? È sullo sfondo! Zoom e migliora! Una ragazza! Nick! Chi stai abbracciando in questa foto? Pensavi che non me ne sarei accorta? Ho una lente d'ingrandimento! Ma non l'ho nemmeno vista! Sono in piedi con i miei amici! Non puoi ingannarmi! Ti tengo d'occhio! Ti è piaciuta la nostra ragazza spia? Scrivi qui sotto se fai il tifo per Alice o per Nick! E ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete un like al video e cliccate sulla campanella! Non perdete nessun nuovo esilarante video!